ciao a tutti ragazzi buongiorno e benvenuti al tg dei motori racing time allora possiamo dirlo e venne il giorno in cui è arrivato l'annuncio dell'organigramma tecnico della ferrari quindi parleremo fondamentalmente di questo in questa puntata di racing time vi darò delle come dire delle piccole curiosità in merito a questo discorso e vi voglio dire la mia comunque prima di iniziare la puntata come al solito vi voglio indicare il video di questa notte quello che precede appunto quello che state vedendo adesso dove parleremo di questo caos in casa mcclaren del perché 99 su 100 sta succedendo questo qualcosa di inspiegabile cioè il team che non appoggia il pilota con più punti e che lotta per il campionato piloti appunto intuizione di nico rosberg che secondo me ci ha visto giusto ci ha preso come da titolo bene adesso sigla e poi partiamo con questa importante puntata perché nelle mani di questi ragazzi c'è il futuro della ferrari sigla bene bene ragazzi allora s e r r a serra 5 lettere ci siamo non si poteva sbagliare però io non mi voglio soffermare solo sul direttore tecnico nonché mago delle sospensioni perché lui effettivamente è un mago delle sospensioni e quindi c'è dal punto di vista telaistico molto importante le sospensioni per quel che riguarda le vetture effetto suolo ma non solo saranno una componente importantissima anche delle vetture che andranno dal 2026 in poi anche se anche se lì a farla da padrona sarà come al solito metto silenzioso il telefonino perché me l'ero dimenticato a farla da padrona sarà il motore con quelle regole parleremo anche di questo discorso qua in questa puntata però prima diamo un'occhiata a quello che un qualcosa che già un po tutti non solo io ci immaginavamo ovvero serrà come o serra come dirsi voglia come direttore tecnico a coordinare un insieme di reparti che mi dovete credere ragazzi hanno delle eccellenze nei vari nei vari ruoli e questo lo va a testimoniare fondamentalmente una cosa c'è stato un assalto da parte innanzitutto di aston martin che ha fatto offerte pure a me e io ho dovuto dire no perché c'è questa nel cuore e quindi pensate se le offerte sono arrivate qua immaginatevi che cosa ha potuto offrire a tutti questi uomini con diego tondi che è quello di fianco a serra cioè quello con la camicia bianca per chi non conoscesse i volti di questi ragazzi adesso ve li spiego tutti con diego tondi che è stato come dire al centro di una corte spietata ma non solo anche da casa mercedes hanno tentato tantissimi uomini chiave di maranello della ferrari quindi questo ci dà un po quello che è il valore di ciò che abbiamo in casa onestamente il cambio serra con cardile io sono contentissimo che è stato fatto se proprio si doveva sostituire uno al ruolo dell'altro anche se devo dire che comunque questa monoposto che è stata sfornata dalla mente di diego tonni ma anche da quella di cardile non è che vada tanto male 1 2 un'altra cosa che vorrei attenzionarvi direttore tecnico a parte questi ragazzi sono stati capaci senza la direzione tecnica di cardile di fare quelle modifiche alla vettura quegli sviluppi che hanno permesso di vincere alle claire cioè hanno permesso alle claire di vincere una straordinaria gara a monza quindi non siamo messi male ma andiamo lì a conoscere un po meglio per chi non li conoscesse e soprattutto per chi non li conoscesse tutti perché questi ragazzi qui questi sette uomini sono praticamente a capo di reparti fondamentali per la performance della vettura allora serra direttore tecnico lo conosciamo già è quello con la camicia bianca quindi muoviamoci da sinistra verso destra poi abbiamo diego tondi responsabile dell'aerodinamica ragazzi credetemi lui è uno veramente veramente forte è ricercato da tutti gli altri team quasi tutti gli altri team che ci stanno in formula 1 appunto ne abbiamo parlato aston martin in testa ma non sono gli unici poi abbiamo fabbio montecchi che lavora in ferrari da una vita e che sarà il responsabile ingegneria di progetto del telaio poi marco adurno sempre muoviamoci da sinistra verso destra responsabile performance del veicolo poi matteo toninalli responsabile ingegneria di pista e poi diego ioverno che avrà due compiti sarà il responsabile delle operazioni del telaio e anche il direttore sportivo un grazie a diego ioverno per monza e poi ancora enrico gualtieri direttore tecnico reparto power unit cioè reparto motori ovvero quel reparto che dal 2026 in poi sarà sotto i riflettori particolarmente e vi posso dire quel reparto che si sta potenziando sempre più per quel che riguarda la parte elettrica della power unit perché quella dove siamo un po più deficitaria inutile nasconderlo ragazzi è così in questo momento mercedes è al top in quel settore e poi arriviamo noi però una rimonta da qui all'inizio non è assolutamente da escludere assolutamente no quindi diciamo al di là del direttore tecnico poi c'è un gruppo di menti italiane di cui ragazzi noi dobbiamo andare fieri ci mancava quello che era come dire il mago delle sospensioni quello che ha regalato tanti anni ha contribuito a regalare perché non è stato solo merito suo tanti anni di successi in casa mercedes e che adesso dal primo ottobre sarà operativo in ferrari dal primo ottobre e quindi sentiremo e non poco la sua mano sia per quel che riguarda alcuni interventi che verranno fatti sulla vettura di quest'anno ma soprattutto per quel che riguarda la vettura del 2025 quella che guideranno Hamilton e leclerc quindi aspettiamoci io sono ottimista anche perché ripeto un singolo non fa la differenza la differenza la fanno tre cose delle menti capaci delle menti capaci di lavorare bene assieme perché se c'è la guerra tra di loro e abbiamo visto come in passato questo abbia danneggiato parecchio la ferrari non si va da nessuna parte e poi una squadra molto molto coesa che spinge tutta nella stessa direzione quindi staremo a vedere ora volgiamo lo sguardo un attimino in casa aston martin e diamo per certo per un attimo questo ingaggio di adrian newway o ma quante teste ci sono lì c'è il nostro cardil c'è adrian newway c'è luca furbatto c'è il braccio destro non mi viene mai il den fallov non mi viene mai questo nome subito in mente l'ex braccio destro della di adrian newway che poi tra l'altro voglio vedere i due non è che hanno buonissimi rapporti allora abbiamo parlato di squadra coesa ecco io credo che ci vorrà un coordinatore molto bravo in aston martin per mettere d'accordo tutte queste spiccate individualità vedremo se ci riusciranno o no vi ricordo l'esempio di mclaren che aveva ingaggiato rob marshall e per una sorta di gesto d'amicizia anche il l'ex capo dell'aerodinamica della ferrari quindi anche adesso in alpine volete sapere perché non mi faccio il nome in questo momento perché non mi viene cioè non per proprio è a volte soffro di lapsus sui nomi che è una cosa incredibile ma mi capita anche quando incontro la gente per strada è ciao carissimo come stai però il nome non mi salta fuori poi quando gira le spalle mi saluto mi saluta ecco che mi viene mi viene il nome possibilmente mi verrà in puntata comunque c'erano due ruoli due individualità molto spiccate uno dei due dovevo lasciare posto all'altro ed ecco che è successo rob marshall è rimasto al timore invece quell'altro è andato in alpine lo chiamiamo quell'altro già avete capito a chi mi sto riferendo però state tranquilli che da qui a fine puntata sicuramente mi salta fuori il nome e quindi in definitiva sono proprio curioso di vedere in aston martin come faranno andiamo avanti perché a proposito di ex individualità spiccate di casa ferrari non posso non pensare alle parole che binotto ha espresso sui prossimi piloti dell'audi perché lui ha parlato ragazzi di anche tra i vari piloti che stanno prendendo in considerazione di sebastian fettel ha detto che lui è innamorato sia del pilota che della persona sebastian fettel e quindi lo sta tenendo in considerazione allora ragazzi io vi dico una cosa ma io non credo assolutamente avendo imparato a conoscere fettel che fettel accetti una proposta da mattia binotto per andare in audi cioè veramente se lo fa gli tolgo il saluto credetemi è questo un mio pensiero va bene tutto bortoletto dalla formula 2 che si sta giocando il mondiale di formula 1 va bene l'inquadrato bottas va bene chiunque va bene mick schumacher ma fettel cioè io lo prenderei al volo però non credo proprio che fettel accetti un ruolo dato da binotto in audi che è un progetto che sta partendo assolutamente no vedremo se avrò ragione o torto a proposito mi è venuto il nome david sanchez che vi avevo detto mi veniva il nome come dire entro la puntata e così è stato quindi avevamo queste due individualità rob marshall e david sanchez con un ruolo praticamente quasi identico e non potevano coabitare tutte e due mclaren tant'è che un appunto è emigrato con un garden living inesistente perché tanto sanchez in mclaren aveva fatto poco o nulla per quel che riguarda la monoposto che sta dominando in questo momento i gran premi per lo meno a livello di performance e quindi poi andato subito immediatamente a essere operativo in alpin lo sapevo che mi veniva andiamo ancora avanti voglio ricordarvi il nostro talent che si svolgerà il 28 il 29 settembre dedicato a tutti gli iscritti al canale un raduno per conoscersi un corso di pilotaggio per insegnarvi qualcosa e infine ragazzi un talent che vi darà la possibilità se siete tra i migliori o addirittura se siete il migliore del talent di correre gratis con noi per la stagione 2025 in realtà da novembre 2024 in poi come fare a partecipare scrivete un email la selezione nazionale piloti che ho c'è al gmail punto com e richiedete il regolamento a carico del pilota c'è solo l'assicurazione giornaliera e il pedaggio in pista da dare cioè quello che va al titolare della pista al gestore della pista quindi affrettatevi perché un'ottima occasione andiamo avanti ragazzi perché voglio farmi a una riflessione di toto wolf che praticamente ha detto che la formula 1 di quest'anno è eccezionale perché ci sono quattro team che sono andati a vincere e dovete pensare che quello che è successo quest'anno cioè con almeno tre team cioè quattro team che si sono aggiudicate tre gare non succedeva da lontano 1974 e anche dal 1977 foto a cui si hanno a cui si riferisce questa foto perché praticamente in quegli anni abbiamo avuto nel 74 mclaren ferrari lotus e brabham con almeno tre successi nel 77 praticamente abbiamo avuto lotus ferrari wolf e mclaren con almeno tre successi se dovesse capitare che ferrari mclaren e mercedes svinceranno il quarto gran premio sarà una cosa mai successa allora io faccio un ragionamento ormai non si può più tornare indietro ma che bisogno c'era di cambiare le regole assolutamente zero un vero peccato cosa che toto wolf con parole come dire ci ha girato un po largo però ha voluto sattolineare ultima notizia perché poi commenti li daremo nel tg di questa notte thierry new wheel ha rinomato con la hyundai per il 2025 quindi al di là di come finirà questo mondiale dell'eterno secondo quest'anno se lo gioca con ogè vedremo poi l'anno prossimo di nuovo il pilota belga nel mondiale wrc vrc bene ragazzi per questa puntata è tutto vi ringrazio ci vediamo al tg notte vi mando un bacio iscrivete a questo canale al nostro secondo canale selezioni tv 2 lasciate un like un commento se vi fa piacere vi saluto ci vediamo questa sera a proposito domanda del giorno ma voi siete contenti di questo organigramma tecnico della ferrari siete fieri del fatto che siano tutti italiani tranne serra oppure no io personalmente sì non mi dispiace come al solito sarà la pista a parlare ditemi la vostra ciao raga